E' inspiegabile la fretta con cui si è apprestata a cambiare i vertici degli enti e chissà cosa accadrà alla tua azienda risanata dopo i disastri di Arpa. E quanto afferma il capogruppo del gruppo consigliare del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, il quale critica le scelte della giunta guidata dal presidente Marco Marsilio e in merito alle recenti nomine dice Marsilio è assente e distante dalla nostra regione, non si occupa dei grandi temi che riguardano la regione Abruzzo ma ogni qualvolta invece c'è una nomina da fare è presentissimo. Dalla società di trasporto per arrivare alle nomine con i bandi, i ribandi delle ASLA, l'istituto zooprofilattico, alle società acquedottistiche, il centrodestra è davvero vorace nell'occupare in breve tempo, in qualche giorno, tutte le poltrone che si possono occupare. Noi contestiamo l'ultima nomina del Consiglio d'amministrazione della società dei trasporti unica abruzzese perché nel merito e nel metodo riteniamo che ci siano stati degli errori. Intanto noi avevamo messo in campo, a partire dal professor D'Amico, le competenze dell'università, del mondo dell'imprenditoria e dell'economia. Loro invece fanno nomine squisitamente politiche, sono sostanzialmente tutte politiche, segretari politici e persone candidate ma non elette negli schieramenti del centrodestra e vigileremo. Vigileremo sulla procedura che è stata seguita, vigileremo perché TUA non torni al vecchio metodo, al vecchio governo del centrodestra, delle società satelliti che fecero molti debiti e vigileremo sui percorsi individuali, sugli acquisti, sulla manutenzione, sull'acquisto delle gomme perché non si torni negli errori e con gli errori del passato.